guerrieri buonasera a tutti e benvenuti in questo nuovo video sabato 9 aprile 2022 sono le 19.28 siamo nei pressi di San Marcello Pistoiese e acqua mista a neve ragazzi incredibile grandine non si capisce bene siamo davanti la Dinamo Camp direzione montagna guerrieri sul neve che ho già messo le telecamere grandine neve non si è capito cosa c'è prevista neve stasera dalle 22 fino alle 1 di notte siamo alla Lima ci sono 7 gradi centigradi cominciamo la salita osservando in alto sembra che stia non so grandinando nevicando di brutto tutto completamente chiuso segno buono ci sarà da divertirsi anche stasera siamo allo svincolo qua con Cutigliano sicuramente non farebbe bene una nevicata ora perché le piante cominciano già a mettere i primi fiori temperature molto rigide le blocca completamente iniziano le prime buttate ho appena incrociato una macchina che veniva giù dalla betona era completamente tutta bianca ma mi sembrava più grandine che neve poi non lo so presto lo scopriremo rimanete incollati mi raccomando dai saliamo su siamo a pian dei sisi circa 7 chilometri dalla betone e per ora è acqua mista a neve ragazzi stiamo salendo 5 gradi centigradi non so a quanti metri siamo sul livello del mare ma ancora siamo bassi iniziamo con i tornantoni in salita dai forza incredibile ragazzi inizia a fioccare come potete vedere siamo ancora lontani dall'obiettivo è a sant'annapelago c'è ancora molta strada nevica già non siamo ancora a piano sinatico ops guardate la macchina come è carica di neve quella ce n'aveva tanta sopra tornantone destro nevica temperatura mi dà sempre 4 gradi comincia ad essere bianco dalle parti per ora nevica piano però ha già cominciato ad attaccare che bello la neve mi dà una sensazione di pace e armonia ragazzi non indifferente non 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 siamo alle regine bello il paesaggio le piante carbonizzate dalla neve che ci ha picchiato siamo quasi in piazza della Betone la strada è pulita non sta per il momento nevicando ma deve aver fatto una bella passata forse di pochi minuti però il paesaggio è bello è tutto bianco guardate gli abeti davanti a noi che spettacolo che danno sulle piste sopra della Betone bellissimo bellissimo da fare uno scatolo il cielo è proprio a neve bello chiuso per ora però non sta nevicando il cimone sembra chiuso bello eh bello 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 allo svincolo con Val di Luce siamo esattamente a 0 gradi centigradi e sono le 20 di sera e viva la primavera guerrieri il cimone davanti a noi questi paesaggi surreali ce li può regalare solo la natura che spettacolo non so se state notando la linea della neve guardate fino a metà non è bianco sopra è bianco l'altezza proprio diciamo sopra i 1200 a nevicare infatti siamo all'altezza di Fiumalbo e dalle parti non c'è la neve perché siamo scesi sotto i 1200 metri ormai siamo in direzione di Pieve Pelago ragazzi non è più bianco è bianco sopra i 1150-1200 vi aggiorno più tardi comunque se dovesse nevicare vi aggiorno ciao guerrieri alla grande ciao